Il Paradiso, trama dell'un grado maggio, gemma alle sue colleghe di essere incinta. Le anticipazioni del Paradiso delle Signore riservano diverse novità per i telespettatori. Nella puntata che andrà in onda lunedì primo gradi maggio su Rai 1, intorno alle 16.05. Vittorio Conti, Alessandro Tersigni, sarà ormai convinto che Tancredi sia coinvolto nell'incendio avvenuto anni prima nel mobilificio della famiglia Frigerio. Inoltre le indagini porteranno l'imprenditore a confermare le proprie teorie sulla complicata vicenda. Marco, invece, darà a tutti una notizia molto importante. Intanto Armando Ferraris, Pietro Genuardi, dovrà decidere se trasferirsi a Londra insieme ad Agnese, ma non saprà cosa fare. Nella puntata del Paradiso delle Signore trasmessa lunedì primo gradi maggio, Armando dovrà prendere un'importante decisione per il suo futuro, l'uomo. Infatti, dovrà decidere se trasferirsi a Londra, così da accontentare il volere di Agnese. Oppure rimanere a Milano e lasciare la donna da sola. Nel frattempo Marco di Sant'Erasmo, Moise Curie, annuncerà ai suoi cari di aver trovato un nuovo lavoro negli Stati Uniti e di avere intenzione di partire il prima possibile. Gemma Zanatta, Gaia Bavaro, invece, sarà accolta da un malore improvviso, in presenza delle sue colleghe. Così dopo essersi ripresa sarà costretta a confessare la verità riguardo il suo stato di salute e dirà quindi a tutte di essere incinta. Armando sarà piuttosto confuso in merito al suo rapporto con Agnese, Antonella Attili, così dopo aver appreso che la donna ha intenzione di tornare definitivamente a Londra. Penserà di trasferirsi per rimanerle vicino, ma per lui non sarà affatto facile prendere una decisione definitiva. Alfredo e Chiara, invece, saranno sempre più vicini in sintonia, tanto da far ingelosire Irene, Francesca del Fa. Quest'ultima, però, sarà molto orgogliosa e non lascerà trasparire nulla del proprio resentimento verso Perico. Nonostante la sofferenza provata, Irene non vorrebbe tornare sui suoi passi e ridurre la distanza da Alfredo, Gabriele Anagni. Infine, Marco sembrerà ormai convinto di tornare negli Stati Uniti, nonostante abbia iniziato a provare dei forti sentimenti per la sua ex fidanzata Gemma. A fronte di questo, il giovane di Sant'Erasmo non saprà ancora come comportarsi.